Siamo a Bologna e siamo in compagnia di Marco Momoli, responsabile di Sana. Cosa ci racconta? Ci racconta che Sana quest'anno, il 2011, si presenta con delle grandi novità. Tanto è una manifestazione che farà dell'attenzione al pubblico professionale, all'operatore professionale, il suo primo obiettivo. Per cui sarà una manifestazione aperta gratuitamente a tutti gli operatori professionali del settore dell'alimentazione in particolare, quindi distribuzione, GDO, gruppi d'acquisto, ma anche ristorazione, ristorazione collettiva, bar, tutto quello che ha a che fare con il settore dell'alimentazione. E dall'altra parte, l'altro grande filone di visitatori che andremo a intercettare sarà quello per la parte di benessere e cosmesi, quindi erboristerie, profumerie, tutto quello che ha a che fare con la distribuzione del prodotto cosmetico naturale e biologico. E questo è un primo grande elemento di novità. L'altro grande elemento di novità è che nel settore dell'alimentazione la partecipazione espositiva sarà aperta solo alle aziende che trattano prodotti biologici certificati. Quindi questa sarà una focalizzazione molto precisa che va alla manifestazione quest'anno e che l'anno scorso non aveva. Quindi focalizzata sugli operatori professionali per quanto riguarda i visitatori, focalizzata sul prodotto biologico per la parte di alimentazione, sul prodotto naturale e biologico per quanto riguarda la parte di cosmesi. Tutte novità molto importanti che cambiano radicalmente la situazione rispetto agli anni precedenti in cui queste cose non erano così chiaramente fatte precise. Allora, Sana è una manifestazione che opera in questo mondo da parecchi anni. Sana è quest'anno la sua ventitresima edizione. Per molte aziende di questo settore rappresenta un vero e proprio valore affettivo perché sono nate e cresciute con questo evento. E quindi ha sentito la necessità di fare questo tipo di cambiamenti anche per seguire quella che è un po' l'evoluzione del mercato. Quando Sana è nata e quando questo mercato è nato si trattava di una manifestazione che parlava ancora di un mercato per pochi, ancora non ben definito. Dopo 23 anni il mercato è diventato uno dei mercati più importanti a cui tutti ormai danno attenzione perché il tema della sostenibilità, del biologico, dell'eco compatibile sono cose che sentiamo tutti i giorni. E quindi è un mercato maturo, un mercato che ormai ha sviluppato una sua rete di contatti, di relazioni commerciali e l'evento deve rispondere a questo tipo di necessità ormai. Le aziende ci chiedono di poter avere un appuntamento in cui interloquire con i loro interlocutori professionali perché la necessità di comunicare col pubblico finale, col consumatore finale ormai non è che è meno sentita, però è già un dato di fatto che viene fatto tutti i giorni anche attraverso tanti mille strumenti di comunicazione che non è solo più la fiera. Saranno previsti, immagino, anche dei contatti con i vari buyer, saranno invitati? Noi avremo importanti iniziative da questo punto di vista. Intanto Sana è l'unica fiera sul prodotto biologico che quest'anno è stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Ice nel piano di iniziative che verranno finanziate, cofinanziate per portare operatori esteri in Italia. Questo è già un primo segnale. Quindi questo sarà un finanziamento, un'operazione di circa 200 mila euro che noi realizzeremo per portare alla manifestazione buyer dai paesi dell'area mediterranea e dai paesi dell'estero Europa. L'altra cosa importante che faremo, lavoreremo molto in collaborazione anche con le aziende e le associazioni per portare a Sana pullman e pullman di operatori professionali. Questa è una cosa che abbiamo già fatto negli anni scorsi con alcune aziende che ha portato per esempio oltre 1300 erboristi l'anno scorso a Sana, parliamo di più di 50 pullman. Quest'anno li replicheremo sia con gli erboristi ma anche con la parte, come dicevo prima, di operatori rivolti alla ristorazione. Quindi sicuramente ci stiamo muovendo per avere la manifestazione un pubblico molto numeroso e molto qualificato. Quindi ci saranno anche paesi emergenti? Come detto, l'attenzione sarà spuntata sui paesi dell'area mediterranea, non solo su quelli ma anche su quelli. È chiaro che in questo momento la situazione politica di alcuni di questi paesi è difficile però per esempio, se intendiamo un po' un raggio allargato, tutta la parte dell'est Europa e anche la parte della Turchia così come dall'altra parte della Spagna sono aree importanti che sia come produzione che come consumo cominciano ad essere importanti e quindi sono bacini su cui andremo. Non trascuriamo per questo tutto quello che è Europa del Nord quindi Francia, Germania, Olanda, Austria, Svizzera che sono comunque paesi in cui il prodotto biologico, il prodotto naturale viene consumato e viene consumato in maniera molto forte. Quindi a Sana un operatore interessato a questo mercato del biologico troverà tutto quello che gli può servire sia a livello di produzione sia a livello di distribuzione? Sì, assolutamente sì, troverà un ampio panorama di prodotti tutti assolutamente qualificati, quest'anno per esempio saremo molto attenti a quello che verrà esposto perché c'è una commissione esterna alla manifestazione che controllerà i certificati di tutti quelli che vengono esporre per cui il controllo sarà estremamente severo sia prima che durante la manifestazione e questo darà a tutti quelli che verranno la garanzia del fatto che i prodotti esposti saranno di assoluta qualità e rispondenti a quelli che sono gli standard previsti. Ci sarà anche tutto un ricco programma di eventi collaterali per cui per esempio stiamo sviluppando, svilupperemo con l'osservatorio di Sana uno studio su quelli che sono i profili dei consumatori di prodotti biologici nei vari canali distributivi per cercare di capire se ci sono delle dinamiche diverse ci saranno dei premi che noi daremo ai canali distributivi per cui andremo a premiare i canali distributivi che si dimostreranno più innovativi più capaci di essere in linea con le nuove esigenze del mercato quindi ci sarà tutta una serie di iniziative sia dal punto di vista dei contenuti espositivi che dal punto di vista dei contenuti culturali che faranno della manifestazione un appuntamento da non perdere per tutti quelli che in questo settore vogliono lavorare. Grazie 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 Grazie.